bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il rollerista cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1986, una pazza giornata di vacanza un adolescente determinato a saltare la scuola organizza una complessa serie di inganni per fare in modo da passare un giorno indimenticabile a Chicago in compagnia di due amici il mio voto a questo film è 7, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione, la sceneggiatura è di genere e commedia, la durata è 1 ora e 38 minuti il regista è John Huggs, la regia è buona, bravo regista l'attore è Matthew Broderick, bravo attore nel film anche Alan Rack, Mia Sara, Jennifer Grey, Geoffrey Jones, Cindy Pickett, Charlie Sheen Leman Ward, Eddie McClark, Ben Stein, Richard Edson, Jonathan Schmock, Christie Swanson, Debra, Montgay, Max Perlick, Scott Coffey, Dale Close, Stephanie Black, Tiffany Chunch, Paulie Nonan, Larry Flash, Jenkins, Henny Ryan, Louis Henderson, Joy Garfield, Christine Graziano, Tom Spratley, Joy D. Vieira, D. D. Rescher saluto Anna, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto grazie a tutti